Solo l'umiltà è la via che ci conduce a Dio. Signore, che non sia superbio, che non sia autosufficiente, che non creda che io sono il centro dell'universo. Fammi umili, dammi la grazia dell'umiltà. E con questa umiltà io posso trovarti. È l'unica strada, eh? Senza umiltà non troveremo mai Dio. Troveremo noi stessi. Perché la persona che non ha umiltà non ha un orizzonte davanti. Ha soltanto uno specchio. Si guarda, guarda a se stesso, guarda a se stesso. Chiediamo al Signore di rompere lo specchio e guardare oltre, all'orizzonte dove è Lui. Guardare Gesù, guardare l'orizzonte, guardare Dio che viene da noi.